segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te il comportamento di calenda se fosse in una commedia borghese dei tempi in cui c'era il grande teatro in italia ecco i critici direbbero c'è un errore di copione ma è molto grave perché il personaggio che entra per creare una situazione che è molto difficile che è improbabile che non dovrebbe esistere perché l'opposizione non è la consigliera della maggioranza è una cosa che non è mai avvenuta prima comunque il fatto nuovo potrebbe potrebbe creare un interesse nuovo ma il fatto nuovo non è avvenuto quello che racconta calenda è privo è totalmente privo di interesse semmai è molto interessante per la per giorgia meloni perché in cassa senza averlo chiesto e ne bisogno bisogna dire in cassa un un tributo passa di lì uno strano passante che fa un'offerta a casa meloni e l'offerta ovviamente viene ricevuta con grazia e diventa grazie un tratto della politica italiana in questo momento ma quale politica italiana chi è calenda a nome di chi sta parlando chi può mai aver voluto e leggerlo perché lui andasse a palazzo chigi fare ciò che i vincitori stavano già facendo e a loro modo e per i loro interetti stanno facendo bene credo che agli occhi della maggioranza degli italiani quel passaggio di calenda che dicevi è andata molto bene sia un momento di mistero però non particolarmente drammatico perché non c'è la drammaticità alcuna nel nel comportamento di calenda c'è invece una una vaga comicità appunto da cinema ad altri tempi in cui il un certo personaggio fa con grande divertimento del pubblico il contrario esatto di ciò che avrebbe dovuto fare e che ci si aspettava dal copione fino a quel momento quindi brutto momento nel senso non nel senso che sia drammatico tragico brutto nel senso che inutile e tibili con l'esistenza di un'italia che non è che non è questo governo che non è questo partito che non è questo regime cioè quindi dice dice colombo è curioso è molto difficile mettersi nella testa di di calenda e dire ma ma chi ti ha fatto fare una figura simile davanti a tutti gli italiani allora colombo praticamente sta dicendo che se volevano fare la mancia ma volevano appoggiare la banavola della meloni italiani votavano direttamente la meloni avevano bisogno di votare calenda queste poi ma calenda invece dice lo voglio dire per correttetta che lui ha fatto ha proposto misure migliorative cioè lui fa una fa una una opposizione patriota come si diceva una volta nell'era in quella posizione c'era la meloni in cui fa proposte concrete e utili per migliorare le cose questa è la versione di calenda allora io saluto a furio colombo ringrazio molto di essere stato con noi